Allora, grazie Salvo, è stato un piacere come sempre. Grazie a te. Senti Salvo, devo dire guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda, guarda un po', guarda, guarda, non resta così. Abbiamo perso veramente un po' di taglie. Che facciamo? Adesso dobbiamo cambiare il camice. E dobbiamo comprare un nuovo camice e dei nuovi vestiti. Perché qua c'è stata molta perdita. Sì, sì, veramente, guarda che differenza. È stata una brava paziente. 25. Ma non paziente, dottoressa paziente. Dottoressa paziente, ma sempre paziente. No, dottoressa. Dottoressa. Tutto bene. Grazie. Non ci voleva sto ruolo qua. Vabbè, si sente.